è un tale show di grande qualità e in questo momento è quello di cui c'è bisogno io normalmente non mi emoziono, invece già entrare in questo studio mi sono emozionata ho la fortuna, ho già cominciato a lavorare con la mia coach Dada che è fantastica mi sto impegnando molto e voglio dare, dico la verità, il massimo e quindi vediamo se capire poverina che sai quante sofferenze ascoltando te figlia mia cosa? cosa? che cominci? io tanto già lo so che mi distruggerà però io sono contenta se Cristiano mi distrugge perché vuol dire che invece sto facendo una cosa giusta comunque, che dire? coraggiosa, acistellare quello che dire qui veramente ci sono i baci stellari grazie grazie grazie